Pianci, è da solo il comodo stora. La rabbia andava in convulsioni, si veniva da piangere, perché gli ricordavamo quella notte tremenda, perché fu una notte da incubo, da incubo veramente, che non riusciva neanche a raccontarla da tanto. La rabbia andava in convulsioni, si veniva da qui. Grazie per la visione!